Chiusa dal primo di gennaio la Marcaferri con le promesse da parte della regione di un intervento, ancora ad oggi nessun interesse, quindi non si sa ancora il futuro dei 50 lavoratori. La Marcaferri è caduta nel dimenticatoio proprio totale di tutto e di tutti. Hanno lasciato in mezzo alla strada pareti di famiglia e sceso il sipario e nessuno ne parla più. All'epoca si parlava, abbiamo fatto dei tavoli anche in regione dove c'erano potenziali acquirenti, addirittura il sindaco di Castilendi si impegnò e disse che aveva trovato tre compratori, magari per riconvertire pure l'azienda. Non se ne è saputo più niente, non si è mosso più niente e di fatti Castilendi è rimasto il deserto che è e continuerà a peggiorare secondo me. Cosa farete ora? Noi cercheremo di riaccendere l'attenzione sul sito di Castilendi, sappiamo già che la Marcaferri non produrrà più a Castilendi perché di fatto ha smontato tutti gli impianti. Il problema è un altro, il problema è riconvertire questo capandone che ha abbandonato e magari cercare di creare nuovi posti di lavoro e qualcuno si interessa a far sì che porti della produzione e del lavoro a Castilendi. Proprio ieri era il primo maggio e a me veniva proprio in mente questi lavoratori perché il primo maggio degli ultimi non ne ha parlato nessuno.